Ben trovati, Gianluca Guastafesta è il titolo di questo venerdì che continua Guastafesta di chi? Della sindaca di Avellino, coglie soltanto l'aspetto politico-amministrativo della vicenda avellinese. Poi ci sono altre cose di cui vorrei parlare in questo venerdì, specificamente dell'attacco che Gianluca Festa, che non ha atteso più come aveva promesso, come si era impegnato le motivazioni della Corte di Cassazione per la sua scaccerazione, preso un po' dall'ansia da prestazione, posso dirlo, ha parlato prima, ha parlato a Solofra, non si è concesso direttamente ai giornalisti, ma ha parlato a Solofra in una intervista pubblica chiesta e concessa da Gianluca Festa di un'associazione, un'associazione di Solofra libera, si chiama così un'associazione culturale. Ha fatto bene, ha fatto male, sono cose sue e però si è reso comunque nuovamente protagonista, non ha voluto attendere le motivazioni della Cassazione, ripeto, che saranno molto importanti anche a determinare il capitolo successivo di questa storia iniziata con l'inchiesta Dolce Vita, con l'arresto della sua scacerazione, finalmente dopo cinque mesi, sono stati cinque mesi molto molto difficili, per cui anche alcune cose bisogna interpretarle nel modo giusto e cioè anche sul piano squisitamente umano, lo sfogo di una persona è consentito sempre. Perché guasta festa della sindaca di Avellino? Perché di fatto Laura Nargi ha potuto godere della fascia tricolore soltanto per poco tempo, cioè fino a quando Gianluca, diciamo le cose per come sono, senza infincimenti, fino a quando Gianluca Festa è stato, è rimasto agli arresti domiciliari. Una volta uscito, uscito perché ricordiamolo, la Cassazione lo ha scarcerato, poi capiremo, vedremo meglio perché e come eccetera eccetera, ma una volta uscito Gianluca ha fatto esattamente ciò che tutti si aspettavano che facesse almeno per chi conosce Gianluca Festa. Gianluca Festa è una polveriera, è un vulcano, è un vulcano che non ha mezzi termini, o esplode e dice quello che pensa, ma attenzione, non necessariamente quello che pensa e dice corrisponde poi alla verità. Sul piano giudiziario saranno i capitoli successivi dell'inchiesta a stabilire le cose, infatti noi non ci attentiamo più di tanto in questo. E dice anche quello che pensa è che, ecco qui, oggettivamente me ne assumo un po' la responsabilità, perché mentre si taceva in questa città su tutto quello che era accaduto, parlo dell'ultimo mese, il Pirea TV, il direttore di TV, cioè io, tre settimane fa ho cominciato con una domanda, ma chi comanda al comune di Avellino dopo che Gianluca Festa è stato rimesso in libertà e gode di tutti i diritti di cui può godere una persona libera. Beh, insomma, le risposte che sono arrivate sono state risposte molto molto ovattate da parte del palazzo di città e si capisce pure per un problema di discrezionalità politico-amministrativa. Ecco, la risposta che noi avevamo dato in base ad alcune, naturalmente, osservazioni, no? Perché le cose si ascoltano, si analizzano e poi ne viene fuori anche un commento. Noi dicemmo, il sottoscritto ha detto da subito, me ne assumo la responsabilità, al comune di Avellino comanda Gianluca Festa. Ora, Gianluca, prima l'avevo pensato io soltanto in base ha dei ragionamenti e poi Gianluca Festa a Solofra ha detto pari pari quello che avevamo noi immaginato e cioè che comanda lui e che intende comandare fino in fondo. Io ho fatto così un po' sbobbinare le cose che ha detto e ce ne sono alcune cose che vanno, vanno riferite per come le ha dette. Primo punto. La fascia me l'hanno rubata, lo dice la Cassazione, ma l'affetto delle persone non può togliermelo nessuno. La gente sa che su di me sono state dette solo falsità, mi ha creduto la gente e infatti ho vinto pur stando ai domiciliari e quando vingo si governa come dico io. E in effetti Gianluca lo ha detto in maniera netta, molto chiara, o si fa come dico io, già che gode della maggioranza relativa all'interno della coalizione di maggioranza, lui ha la maggioranza relativa con 14 consiglieri, l'abbiamo già detto anche la scorsa settimana, lui effettivamente può decidere la continuità di questa amministrazione comunale oppure può decidere il decadimento con una mozione di sfiducia al sindaco o anche se il sindaco, la sindaca, si rompe le scatole, a un certo punto perde la pazienza e dice caro Gianluca adesso vediamo chi sei tu e chi sono io, cose che non ha detto per la verità e andiamo alle elezioni perché mi dimetto io. Questo può accadere, è una ipotesi. Però dicevo da quando Gianluca Festa ha lasciato gli arresti domiciliari, grazie a Dio e non possiamo che esserne tutti contenti senza ironia, la sindaca ha finito di far festa perché ogni giorno, ogni santo giorno Gianluca ha cominciato non ad alzare il prezzo perché lui ritiene che comunque la merce sia sua, quindi non è che alza il prezzo o la bassa a piacimento, no, a seconda della qualità che dà alla merce che è sua, cioè il comune di Avellino, questo dice in sostanza attenzione, lui decide il mercato, decide come si fa, come si deve fare e se non si fa così, lo dice lui, attenzione, se non si fa così peggio per chi non ci sta. Bene, fila qua, fila tutto, fila tutto alla perfezione, è un suo diritto legittimo, noi abbiamo provato a far parlare Laura Nargi, l'abbiamo invitata qui, il nostro Emanuele Marinelli ogni giorno cerca di farla parlare, ha parlato anche questa mattina dopo ieri, però per la verità senza dire niente, cioè senza dire ciò che la gente si aspetterebbe di sapere e cioè Sindaca Gianluca Festa dice che in comune comanda lui e che se non si fa come dice lui non si va avanti, lei cosa risponde? Laura Nargi a questa domanda non risponde, cerca di prendere tutti i vicoli possibili e non risponde e dal nostro punto di vista fa male, fa molto molto male, questo è un aspetto, poi ci sono sui quali aspetti, su uno degli aspetti che interessano questa vicenda oggettivamente Gianluca Festa può gridare le sue ragioni senza nessun problema. Dove invece comincia a scivolare un po' sulla buccia di banana? Scivola due volte Gianluca, anzi tre, una è soltanto così relativa, una prima cosa ad un suo lapsus, lui a un certo punto dice, dice soltanto, ecco Avellino è l'unico esempio al mondo in cui un sindaco agli arresti domiciliari accusato dei peggiori reati di cui si può accusare, un uomo vince, ecco lui dice io ho vinto nonostante che sono l'unico caso al mondo che dagli arresti domiciliari sono riuscito a vincere, ecco qui sbaglia. L'avvicinamento, attenzione, è puramente casuale, ci mancherebbe, non c'entra niente Gianluca con quello che è accaduto a fine anni settanta, ma c'è stato un altro esempio, non nel mondo intero, qui proprio in provincia di Avellino, ed è l'esempio di Pasquale Raffaele Graziano, il quale era, come sapete, uno degli esponenti della Camorra di 15 e del Vallo di Lauro, Pasquale Raffaele Graziano, sindaco, viene arrestato, il comune viene commissariato, viene arrestato per ipotesi di reati di Camorra che poi sono anche stati dimostrati e dal carcere, non dagli arresti domiciliari, dal carcere, il carcere prima stava, l'ex carcere Borbonico era lì che stava, ecco dal carcere lui vince le elezioni e vanno a fare festa sotto il carcere di Avellino, l'ex carcere di Avellino vanno a fare festa tutti i suoi amici e compari. Niente a che vedere, ma soltanto per dire che qui ha preso una piccola scivolata. Gianluca, lei non è l'unico al mondo, c'è stato un precedente, anche se di altra natura, roba di Camorra con la quale lei non c'entra. L'altro punto dove Gianluca oggettivamente sbaglia e dovrebbe darsi una calmata è quando comincia a dire i rapporti, dobbiamo vedere bene i rapporti tra magistratura e giornalisti, cioè quando attacca i giornalisti che hanno fatto il loro mestiere. I giornalisti di fronte ad un decreto, di fronte ad un mandato di arresto domiciliare o meno, di fronte a una qualsiasi cosa di carattere giudiziario, hanno non soltanto lobby, hanno il dovere di raccontare le cose. Ora, probabilmente c'è stato chi l'ha raccontato nella maniera più asettica possibile e chi invece può avere un pochettino esagerato, ma in questi casi, vorrei dire all'ex sindaco di Avellino, in questi casi si fa una cosa molto semplice, si chiarisce, si fanno nomi e cognomi di quelli che eventualmente hanno raccontato falsità. Ma non è tanto l'attacco ai giornalisti che non sorprende per la verità, l'ha fatto tante altre volte, ma quello che lascia l'amaro in bocca sul piano della etica politica, della etica sociale, io penso che sia questo attacco nei confronti della magistratura. Attenzione, la Cassazione non ha detto che la magistratura di Avellino ha preso fischi per fiaschi, vedremo che cosa effettivamente se ci stanno naturalmente i reati di Gianluca Festa, quali sono, di che portata sono, si vedrà, non è finito qui il processo, ci auguriamo per lui che tutto finisca bene, però attenzione, questi attacchi alla magistratura non fanno bene, così come non fa bene continuare a minacciare tra virgolette il decadimento di Laura Nargi dalla carica di sindaco se non si fa esattamente quello che dice lui. Questo non è assolutamente giusto, ha fatto bene Gianfranco Rosoli a sottolineare un concetto, la sindaca è Laura Nargi, se Gianluca vuole prendersi lo sfizio di mettere in crisi il comune deve fare soltanto una piccola cosa, i suoi 14 consiglieri devono firmare una mozione di sfiducia, si va in contiglio e si vede a venerdì prossimo. Grazie a tutti, grazie a tutti.